L'Italia non è solo quell'inchiesta in corso, anche questo bisogna essere capaci di raccontare, tant'è che la reazione che io considero importante, che abbiamo immediatamente fatto, è questa. Senza aspettare questa inchiesta, con il presidente dell'autorità anticorruzione, avevamo già da sei mesi iniziato ad operare per dare regole più trasparenti, più certe, più accessibili, quindi per contrastare soprattutto le zone opache delle situazioni di ingresso e di concorso all'università. La parte che è corrotta va perseguita fino in fondo, ma nello stesso tempo noi dobbiamo anche dire che siccome quella parte corrotta, che è una malattia ma non è un'epidemia, è una malattia ma non è un'epidemia, cosa ha visto? Il ministero che dice che noi ci costituiamo parte civile, ma se, e come avrete già visto dai quotidiani, il rettore dell'università di Firenze ha scelto di proporre anche lui alla sua università di costituirsi parte civile. Vuol dire che c'è una reazione positiva anche dentro al sistema, io lo considero importante, ma c'è un pezzo in più su cui però voglio davvero approfondire e vedere se ci sono ulteriori elementi che dobbiamo mettere in campo. Avevamo già deciso e stiamo già lavorando da maggio, sia con la CRUI che con la rappresentanza degli studenti perché ho proposto e deciso di fare il 3-4 di novembre, quindi era già deciso prima dell'estate, la conferenza nazionale dell'università per l'università e quindi per rimettere al centro innovazione e qualità dell'università italiana. Io penso che lavoreremo anche per verificare ulteriori necessari interventi perché guardate, il tema che va contrastato è esattamente di mettere al bando e che non risucceda da nessuna parte quello che è già successo. Posso dire che per l'Italia c'è veramente un problema poi di autorevolezza, di serietà della formazione dei nostri ragazzi che diventa un punto che se non affrontato e sconfitto chi fa corruzione o chi fa illegalità è un danno per tutto il paese. Questo noi non ce lo possiamo permettere, soprattutto in questa fase in cui tutti stiamo giustamente dicendo che l'investimento è su innovazione e qualità delle risorse umane e quindi del capitale umano.